Ben tornati buongiorno Yonopot oggi vorrei dopo avervi ricordato che potete sostenere il canale con una donazione parlare del consiglio europeo di qualche giorno fa dall'esito traumatico la pausa dei 15 giorni presa per fare nuove proposte per salvare le economie soprattutto del sud europa italia e spagna in primis per le conseguenze del coronavirus a livello economico la pandemia che sta facendo vittime umane ma anche vittime economiche vorrei partire da questo articolo di muffington post che si intitola che serve questa europa di nadia urbinati in cui ci sono degli spezzoni per me assurdi poi vedremo i paesi degli imperi centrali con austria germania ungheria e poloni insieme agli alleati scandinavi comincio dall'inizio però perché può sembrare un po' incomprensibile allora l'unione europea è divisa in due lungo il crinale di due interpretazioni di come rispondere alla necessità indotta della dalla pandemia più profonda unione fiscale e politica da un lato e status quo dall'altro al primo partito appartengono i paesi che hanno fin qui più sofferto le conseguenze sanitarie il coronavirus come ho già detto che a breve ne subiranno le conseguenze economiche ma già stanno subendo tagli al pil per esempio la lettera di giuseppe conte che chiede all'unione di finanziare tutti gli stati membri necessari investimenti nei sistemi sanitari le politiche temporanee volte a proteggere le nostre economie il nostro modello sociale ha avuto il sostegno di spagna francia grecia irlanda belgio lussemburgo svezia e pardon slovenia portogallo dall'altra parte della barricata stanno i paesi degli imperi centrali con austria germania ungheria e poloni insieme agli alleati scandinavi e all'olanda ma come i paesi frugali come dice il fatto quotidiano che non è un giornale di destra nazionalista filo orban ma è dei 5 stelle è sempre stato a sinistra diciamo parla di paesi blocco frugali questo è un articolo di praticamente un mese fa i paesi frugali quali sono la svezia l'austria danimarca all'olanda e poi c'è anche la germania ovviamente poi per quanto riguarda e lungheria no lungheria non ha come la polonia d'altronde quindi qui quando si parla di ungheria e polonia non hanno l'euro non hanno l'euro non aderiscono alla bce ma di cosa parla victor orban per quanto riguarda il bilancio europeo che era da approvare che è stato praticamente non approvato un buco nell'acqua per l'europa il bilancio europeo del 2021-2027 l'ungheria di orban è stata contro i paesi frugali austria danimarca olanda svezia e germania capofila perché i vicegrad i paesi di vicegrad stavano e stanno nei negli amici della coesione friends of cohesion come riporta questo articolo e quindi che sono i paesi del sud e dell'est europeo del centro europa quindi romania bulgaria slovenia croazia paesi baltici italia grecia portogallo cipro e malta e victor orban come si vede anche qui dalla foto si è messo all'interno della folla dei giornalisti fuori dal dal dall'istituzione europea e ha parlato a favore ha appoggiato il gruppo della coesione ma di cosa parla a finto un post comunque se non fosse per l'eccezione polacca verrebbe spontaneo semplificare i due partiti con le rispettive tradizioni etico religiosi paesi non protestanti e quelli protestanti ma che cosa dice le religioni in ungheria se guardiamo le dati statistici come si dice il censimento del 2011 in ungheria il cattolicesimo era per il 38,9 per cento la prima religione praticata dichiarata il protestantesimo il 13,8 per cento ma ma chi le scrive queste cose comunque andiamo avanti se tra due settimane l'esito sarà un nulla di fatto lo scenario realistico sarà quello di un europa formalmente in piedi ma di fatto una terra di conquista degli imperi nulla cambierà ma tutto sarà diverso converrà questo agli stati membri rigoristi che non è l'ungheria che non è la polonia alla malattia seguirà il bisogno anche essi subiranno gli effetti e problemi che attenderanno i paesi più colpiti quindi anche l'italia in primis prima fila non c'è in vero nessuna lungimiranza nel loro nazionalismo ma guarda che questa pandemia questa emergenza coronavirus ha dimostrato tutta la fragilità del sovranazionalismo dell'unione europea del globalismo del mondo senza confini del compro quello che voglio del vado dove mi pare della libertà estrema di movimento di scelta ma cosa dice il globalismo è in crisi quale nazionalismo il nazionalismo alla risposta applicata con misure nazionaliste e liberali anche da gente come macron liberale europeista come conte con i decreti lasciamo perdere comunque a finto un poste la stessa testata che parlava nel 2016 quindi in seguito alla crisi migratoria della rotta balcanica la grande ondata ricorderete tutti della non europa xenofoba che rinnega le radici cristiane cui si richiama forse l'unica europa che sta cercando di preservare la propria cristianità è quella di vicegrad quella di oggi una non europa che ha paura di quanto non dovrebbe impaurirla che riporta al potere in austria polonia ungheria chi ci illudeva di avere sconfitto per sempre 70 anni fa che torna a dividersi in patrie grandi e piccole rifiutandosi di affrontare positivamente la crisi dei flussi migratori positivamente la crisi dei flussi migratori lasciamo stare la non europa xenofoba non ascolta le voci di chi tenta di farla ragionare cioè soros cioè quelli che stanno con la società aperta va bene neanche commento di velte di velte la merkel è irritata dall'aggressività del premier italiano ha una barzelletta la stampa tedesca ma che è l'aggressività del premier cioè conte conte lo stesso conte che qualche tempo fa il 20 gennaio 2019 libero titolava angela merkel loda giuseppe conte mi concentro su di lui è la famosa baciata di mano alla merkel lo stesso conte è lo stesso conte lo stesso conte che ieri twitter questo l'unione europea ha un appuntamento con la storia e la storia non aspetta bisogna esserne all'altezza la reazione all'emergenza coronavirus deve essere forte vigorosa e coesa mi batterò per i cittadini italiani fino all'ultima goccia di sudore e c'è chi gli crede guarda conte fa la storia come persona come presidente come uomo conte è la storia tutto commovente macron la francia al fianco dell'italia rilasciato a tre giornali italiani un'intervista ieri l'europa smetta di essere egoista lo dice macron che sta vicino all'italia e parla di egoismo nazionale meraviglioso vediamo qui più in generale come giudica il lavoro di christine lagart che è stata criticata questa domanda a macron lo approvo e lo sostengo gli annunci il 19 marzo erano coraggiosi indispensabili questi annunci qui noi non riduciamo lo spread e ha fatto crollare il 17 per cento circa la borsa italiana meraviglioso poi la stessa francia mare ceduto francia far dietro front non modifichiamo le frontiere la francia costretta a rimodificare le cartine del mediterraneo dopo le polemiche sul mare ceduto ai transalpini la stessa francia dell'acquisizione dei cantieri sull'atlantico di san naser da fincantieri al vaglio della commissione europea la trattativa va avanti da tre anni adesso si teme un giudizio negativo da bruxelles quindi che non fa annettere a fincantieri leonardo i suoi cantieri militari sull'atlantico i francesi i stessi francesi che sconfinano con la gendarmeria con le camionette con i defender le jeep che mettono un piede in italia dove non hanno giurisdizione il viminale atto stile ricorderete le foto i video qui e vorrei poi proporvi un articolo di pesci strazo che spiega un po forse qual è la ragione dietro alla mancanza di solidarietà dell'unione europea o cosa è la solidarietà nell'unione europea e il titolo già evocativo perché non funziona la solidarietà nemmeno adesso con il coronavirus nell'unione europea e qui c'è la foto emblematica del colosseo con la bandiera europea proiettata perché perché la solidarietà dice il giornalista che è balint botond è un sentimento umano e non un comportamento istituzionale non deriva dal comportamento delle istituzioni europee della euro burocrazia degli euro in omani l'aiuto non dipende come si legge qui da logiche di mercato ma da logiche di bisogno allora non è non sono le logiche del non segue le logiche del capitalismo del globalismo del liberalismo ma quelle del cristianesimo nel caso europeo cioè della moralità dell'etica poi la l'elite politica di brussel negli ultimi anni non ha mostrato empatia e ha sostituito alla fratellanza alla solidarietà tra virgolette sempre che cosa la listeria di una pseudo solidarietà da richiedere e da pretendere da ogni stato forzosamente l'unione europea ha due stati oggi come ieri a dire il vero come sempre fondamentali traino che sono francia e germania che non vanno d'accordo neanche tra loro molte volte anche se c'è stato il patto di acquisgrana e quando serve veramente la francia si accosta sempre alla germania come sappiamo benissimo i due governi vanno a braccetto adesso sembra che macron stia cambiando binario ma vediamo se è tutta apparenza non mi fido non mi fido mai e non hanno come spiega il giornalista queste due nazioni non hanno acquistato il sostegno o meglio il rispetto delle altre nazioni perché non hanno rispetto neanche tra loro e non hanno rispetto loro delle altre nazioni non c'è coesione non c'è una vera comunità come ha dimostrato l'unione europea la francia la germania quando istericamente chiedeva per esempio all'ungheria la polonia di prendere clandestini che loro chiamavano quelle nazioni dell'ovest chiamavano rifugiati richiedenti asilo addirittura migranti economici come una nuova scappatoia per non chiamarli clandestini io con questo vi saluto spero che il video vi sia piaciuto condividetelo lasciate un mi piace lasciate anche una donazione per sostenere il canale arrivederci vislata alla prossima ciao